25.000 metri quadrati nelle vicinanze del torrente Scrivia e adibiti alla coltura di girasoli erano pieni di materiale edile, pneumatici, strutture metalliche arrugginite e parte di arredi. A trovarli la guardia di finanza di Tortona che ha sequestrato l'area. L'accusa è di gestione dei rifiuti non autorizzati che erano stati gettati in quella zona da parecchio tempo. Risultavano infatti in uno stato di decomposizione avanzato ed il fatto che fossero in un campo adibito alla coltura rappresentano un vero e proprio pericolo di contaminazione del suolo. Inevitabile non pensare alle conseguenze sulla salute pubblica. L'ARPA ha prelevato dei campioni di terreno per verificare il grado di pericolosità e di contaminazione, condizione necessaria per la successiva bonifica. Molti lasciano i rifiuti cosiddetti speciali in zone in cui non dovrebbero per evitare di pagare la tassa prevista per il deposito in discarica di rifiuti solidi, che si applica anche nei confronti di chi mette a disposizione aree di terreno adibendole a discariche non autorizzate. Insomma, la teoria accusatoria è che risulta impossibile che i proprietari del campo non si fossero accorti prima degli altri della presenza di quei rifiuti. Terreno contaminato, culture contaminate, olio contaminato che poi finiva sulle nostre tavole. Ora bisognerà stabilire con esattezza la catena delle responsabilità per un reato che sta diventando sempre più comune, tanto che da gennaio ad oggi è la quinta operazione che la finanza di Tortona fa in questo ambito.